Sto valutando di ridurre drasticamente il traffico veicolare sulla strada panoramica, limitandolo alle persone che abitano a Pavana, perché diversamente si mette a repentaglio l'incolumità delle persone. Così il sindaco di Sabuga, Fabio Micheletti, ha la vigilia della riunione in prefettura per fare il punto sui lavori dalla frana di Pavana. Ad oltre otto mesi dal crollo della strada proseguono i lavori al cantiere aperto da alcuni mesi, su cui ha condotto un sopralluogo il primo cittadino del centro della montagna pistoiese. Mi farò interprete innanzi al prefetto per chiedere ad Anas di fare ogni e qualsiasi sforzo per aprire prima dell'inverno un senso unico alternato, perché diversamente siamo in gravissima difficoltà, perché la viabilità alternativa è molto fragile. I timori sono legati al tempo, l'arrivo dell'inverno potrebbe infatti rallentare il cantiere con neve e ghiaccio, che nei mesi più freddi causeranno ulteriori disagi alla viabilità, ora deviata sulla Taviano Badi e lungo la panoramica che attraversa il paese di Pavana. Grandi disagi alla popolazione e grandi disagi economici. A questo proposito la regione aveva tempestivamente previsto gli indenizi, gli indenizi però erano calibrati fino al 30 settembre. Come lei può vedere la strada è ancora chiusa, quindi chiedo e colgo l'occasione per dire alla regione di prorogare questi incentivi, questi indenizi, perché la strada è ancora chiusa.